Un percorso che inubilita l'olio dopo il cartoceto e le eccellenze no gastronomiche del territorio, tre luoghi suggestivi che sorgono nei comuni dell'areale dell'unica dopo le aree delle Marche, tre eleganti concerti spettacolo che raccontano il territorio e altrettanti momenti di approfondimento su scienza, filosofia e teatro. Ad un anno di distanza ritorna Conterranea, l'evento che mette insieme ristorazione, storia, natura e musica di qualità. Il format, promosso dai comuni di Cartoceto, Colle al Metauro e Monbaroccio e dalle rispettive proloco, si prefigge l'obiettivo di far scoprire un territorio unico quanto ricco e plurale, capace di esprimere diversi itinerari. Il viaggio, condotto dalla narrazione teatrale di Filippo Paolasini, inizia venerdì 30 giugno alle ore 20.30 da Colle al Metauro, nel comune che ospita il Museo del Bali. La serata, che si svolgerà in Piazza Bramante nella frazione di Monte Maggiore al Metauro, indagherà il cielo quale luogo di esplorazione e di ispirazione. La proposta della cena è curata dagli chef Arsegno Teloni e Matteo Baldelli, con la collaborazione del divulgatore enogastronomico e sommelier Gianluigi Garattoni. Invece, lo spettacolo musicale, dal titolo Viaggio sotto i cieli del mondo, è un percorso costruito ad hoc dalla cantante Frida Neri, dal contrabassista Filippo Macchiarelli e dal flautista Fabio Mina. Infine, il talk culturale ospiterà Massimo Fucci, divulgatore scientifico del Museo del Bali. Il 21 luglio, poi, Conterragna prosegue il suo viaggio nei giardini di Palazzo Guido Baldo del Monte a Monbaroccio. A 800 anni di storia del Santuario del Beato Sante, la serata indagherà i rapporti tra fede e ragione. Infine, il 21 luglio, in piazza Marconi a Cartoceto, si parlerà del Teatro del Triomfo, un tempo frantoio e deposito di olive, oggi luogo d'arte e di spettacoli, prossimo polo di innovazione artistica d'avanguardia, chiamato a connotare un territorio, a definirne nuove possibilità, identità e sviluppo. Grazie per la visione!